Musica Ben ritrovati da oltre la cronaca in diretta su Telepace alle 13.30 Partiamo dall'importante discorso che ha fatto questa mattina Papa Francesco al corpo diplomatico accreditato in Vaticano. Tanti temi toccati a partire dal tema dei profughi dell'Europa, del fondamentalismo. Non si può mai uccidere in nome di Dio, ha detto il Papa. Solo una forma ideologica e deviata di religione può pensare di rendere giustizia nel nome dell'Onipotente, deliberatamente massacrando persone inermi, come avvenuto nei sanguinari attentati terroristici dei mesi scorsi in Africa, Europa e Medio Oriente. Il Papa poi ha ripercorso i viaggi fatti nel 2015, ha parlato del tema della misericordia e della famiglia. La famiglia, ha detto, è la prima e più importante scuola di misericordia, ma deve anche affrontare molte sfide. Sentiamolo. Purtroppo conosciamo le numerose sfide che la famiglia deve affrontare in questo tempo, in cui è minacciata dai crescenti tentativi da parte di alcuni per ridefinire la stessa istituzione del matrimonio, mediante il relativismo, la cultura dell'effimero, una mancanza di apertura alla vita. C'è oggi una diffusa paura dinanzi alla definitività che la famiglia esige e ne fanno le spese soprattutto i più giovani. Poi ha parlato contro lo spreco alimentare, contro la cultura dello scarto, che mette ai margini persone da tutelare come anziani, disabili e nascituri. E poi si è rivolto all'Europa per il tema dei profughi, dicendo che trovi il giusto equilibrio tra la tutela dei propri cittadini e la garanzia di accoglienza e assistenza ai migranti. E ha messo in guardia contro i pericoli del fondamentalismo. Sentiamo ancora. L'estremismo e il fondamentalismo trovano un terreno fertile non solo in una strumentalizzazione della religione per fini di potere, ma anche nel vuoto di ideali e nella perdita di identità, anche religiosa, che drammaticamente connota il cosiddetto occidente. Da tale vuoto nasce la paura, che spinge a vedere l'altro come un pericolo e un nemico, a chiudersi in se stessi, arrocandosi supposizioni preconcette. Il fenomeno migratorio pone dunque un serio interrogativo culturale, al quale non ci si può esimere dal rispondere. L'accoglienza può essere dunque un'occasione propizia per una nuova comprensione e apertura di orizzonte, sia per chi è accolto, il quale ha il dovere di rispettare i valori, le tradizioni e le leggi della comunità che lo ospita, sia per quest'ultima chiamata a valorizzare quanto ogni migrato può offrire avvantaggio di tutta la comunità. Sono davvero tanti i temi che il Papa ha trattato. Al telefono abbiamo padre Bernardo Cervellera, direttore di Asia News. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo sentito che il Papa ha toccato temi fondamentali come quelli di questa emergenza delle migrazioni che richiede delle politiche strutturate a lunga scadenza, non una risposta appunto d'emergenza che poi sconfina nella paura, nella creazione delle barriere. Beh sì, c'è un problema grosso, lui dice, è quello di pensare non soltanto all'emergenza dell'accoglienza ma anche la questione dell'integrazione, quindi di trovare il modo di assorbire le persone, i migranti che vengono qui per cercare qualcosa di meglio per la loro vita dentro la vita della società. Seconda cosa però dice anche di aiutare, e questo è appunto una questione un po' più a lunga scadenza, aiutare i paesi di provenienza per fare in modo che possano trovare una via allo sviluppo non soltanto economico ma anche uno sviluppo umano, anche di garanzia dei diritti umani in modo tale che queste persone non sentano più il bisogno di uscire dalla loro terra per arrivare in altri paesi. Il Papa ha parlato anche contro il commercio delle armi? Contro il commercio delle armi, certo, contro la frenesia che si ha adesso nel mondo di ricercare fonti di energia o materie prime, perché questi due elementi sono quelli che creano praticamente tutto il problema delle guerre in Medio Oriente, tutto il problema delle guerre in Africa e quindi tutte le piaghe dei migranti che dal Medio Oriente vengono in Europa o dall'Africa vengono in Europa. E poi ha parlato anche dei cristiani perseguitati. Sì, i cristiani da un certo punto di vista sono migranti come tutti gli altri, però c'è questo peso enorme per cui le loro migrazioni non sono proprio volute, ma sono costrette dalla persecuzione. Abbiamo centinaia di migliaia di profughi da Mossul, dalla piana di Ninive, abbiamo milioni di cristiani in Siria, tutti che migrano da qualche parte perché le loro terre sono bombardate, sono terrorizzate e ci sono carneficine, uccisioni, decapitazioni e così via. Ecco, tra l'altro il Papa ringraziava anche quei paesi molto vicini alla Siria come la Giordania, come il Libano che hanno accolto moltissimi profughi, ringraziava anche la Turchia, la Grecia e l'Italia in particolare per quello che sta facendo. Sì, mi ha molto colpito questo, devo dire che secondo me i campioni veri sono soprattutto il Libano prima di tutto, poi anche la Giordania. Il Libano perché in pratica quasi un terzo della popolazione libanese adesso è costituito da profughi siriani e il Libano li sta accogliendo e cerca di fare veramente il possibile e tutto questo ha creato tantissime difficoltà alla società, al lavoro e così via, però appunto loro stanno assorbendo tutto questo. Se noi pensiamo che l'Italia qualche volta noi ci lamentiamo per poche centinaia di migliaia di migranti, fa ridere veramente il nostro lamento. La Giordania invece bisogna ammirarla perché è un paese povero, eppure hanno accolto anche loro centinaia di migliaia di migranti, tanto che forse in complesso penso che siano più di un milione quelli che sono in Giordania. La Turchia anche ha tantissimi milioni di profughi dalla Siria, dall'Iraq, da altre parti del mondo. Ecco padre Cervellera, in chiusura mi sembra molto importante questo discorso del Papa, in questo preciso momento storico in cui l'Europa e comunque l'Occidente faticano a bilanciare i temi della sicurezza con quelli dell'accoglienza e dell'integrazione. Cosa ci può insegnare questo discorso? A me ha colpito questo discorso del Papa perché appunto sottolinea che in qualche modo la radice dei mali del nostro tempo lui dice che è l'indifferenza, nel senso che se si è indifferenti alla sorte delle persone, alla sorte di quelli che sono al di fuori di me, se si è indifferenti in modo egoistico ai popoli che sono attorno a me, è chiaro che non troverò mai una soluzione. Se invece io sono preoccupato, desidererei fare qualcosa per queste persone, magari faccio qualche passo, magari sbaglio, poi correggo, però la direzione è chiara, la direzione è la convivenza, la direzione è la solidarietà. Ecco quindi l'indifferenza vi dice che è la questione che bisogna superare e mi permetto di dire anche a me è piaciuta molto la sottolineatura che ha fatto sulla famiglia, perché ha detto questa famiglia che pure è quella che tanti stati, tanti poteri politici, tanti poteri economici cercano di distruggere, invece è la base per educare alla solidarietà e quindi educare alla convivenza. Grazie, grazie Padre Cervellera. Grazie a voi. Grazie, noi proseguiamo con un servizio che ci porta a parlare di sanità, di salute e di indennizze. Vi raccontiamo il caso di Natalina Dalzovo, veronese, che da 40 anni convive con l'epatite C contratta dopo un'operazione allo stomaco. Sino a luglio scorso ha percepito, così come stabilito dalla legge, l'indennità per gli emotrasfusi, ma a causa dei tagli in ambito sanitario questi soldi non sono più arrivati. Il servizio di Francesca Martini. Circa 1500 euro ogni bimestre come indennizzo dell'epatite C contratta a seguito di un intervento ospedaliero. Inizia 40 anni fa la convivenza di Natalina Dalzovo con questa malattia infettiva, spesso asintomatica, che colpisce in primo luogo il fegato e per la quale bisogna sottoporsi ogni anno a controlli, analisi e cure. Io nel 74 ho avuto un intervento allo stomaco e ho avuto bisogno di due trasfusioni di sangue e ho preso l'epatite C. Praticamente mi hanno mandato fuori dall'ospedale sapendo già che erano iniziate. Dal 1992 esiste una legge, la 210, che prevede degli indennizi per chi ha contratto epatite o HIV attraverso vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati. In Veneto oltre 1300 le persone come Natalina che hanno ricevuto l'indennizzo, un indennizzo che però da qualche mese è stato sospeso. Il motivo è presto detto. Lo Stato non stanzia più i fondi dal 2012 per gli emotrasfusi e la Regione Veneto, che subito aveva pensato di anticiparli usando il Fondo Sanitario Regionale, ha dovuto bloccare l'iniziativa perché il Ministero dell'Economia e Finanza, il MEF, ha considerato improprio l'utilizzo del Fondo Sanitario per questi casi, così come ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto. Voi da quanti anni percepite l'indennità per gli emotrasfusi? Dunque, noi l'indennità per gli emotrasfusi dall'1.5.2004, dal 1 maggio del 2004. Con la Regione Veneto tramite unità locale soggio sanitario numero 16 di Padova. Da luglio di quest'anno, però, da luglio del 2015, voi non avete più ricevuto questa indennità. Perché? Il perché l'abbiamo saputo solo perché andando in banca, vedendo che non c'erano più questo contributo, mi sono interessato e tramite un mucchio di telefonate che ho fatto, qui avrò una ventina di numeri telefonici, mi è stato detto a un certo punto che il dottor Coletto, con un comunicato stampa, ha disposto di sospendere ai demo traspusi l'indennità perché non riceveva più il contributo da parte dello Stato. Ad aggiungersi il silenzio delle istituzioni preposte, che sia non hanno comunicato la sospensione degli indennizi, né hanno dato spiegazioni. Ancora una volta l'amarezza degli utenti che non sanno a chi rivolgersi. Nessuno parla, solo attraverso qualche rappresentante PD che è in regione, che però al momento non sa dirne se sarà erogato o quando sarà ripresa, perché non li perdiamo, però non sappiamo quando ci saranno dati. E vediamo quali sono veramente le tante difficoltà di fronte alle quali le famiglie si trovano ogni giorno e sono tante, dicevamo, e dunque cambiamo argomento. Adesso parliamo del tema delle unioni civili perché il dibattito è infuocato in questi giorni, in vista del 26 gennaio. Leggo un titolo dal sito della stampa, Renzi ha deciso, sulle adozioni si può sfidare la Chiesa, ma sappiamo che il dibattito è aperto e si parla anche di un nuovo possibile Family Day il 30 gennaio. Allora, ne parliamo con Massimo Gandolfini, portavoce del Comitato, difendiamo i nostri figli. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo sentito più voci, a volte discordanti all'interno della stessa Chiesa, tra chi preferisce una linea più soft e chi invece preferisce andare in piazza per manifestare la propria opinione. Cosa ci può dire in merito? Ma io il mio pensiero l'ho espresso più volte. Sono due scelte di ordine strategico che sono fra di loro complementari, che possono tranquillamente convivere. Anzi, dal mio punto di vista, una ha bisogno dell'altra. È fuori discussione che bisogna fare un lavoro di formazione, di tipo culturale, di tipo educativo, è ovvio. È il terreno base. Ma quando ci sono delle condizioni così contingenti, come può essere la discussione della legge in Senato, c'è anche bisogno di un segnale forte che arrivi ai piani alti della politica e che faccia sentire ai parlamentari che il comune sentimento degli italiani nei confronti delle unioni civili vuole che non ci sia omologazione fra l'unione civile e il matrimonio e soprattutto che i bambini hanno il diritto di avere un papà e una mamma. Ecco, stiamo vedendo nel frattempo le immagini relative al Family Day del 20 giugno del 2015. Diceva dei bambini, ecco perché il punto è soprattutto questo, direi, quello dell'adozione che sembra sempre più probabile una volta che dovesse passare poi il disegno di legge? Guardi, noi facciamo ovviamente tutto ciò che possiamo con le armi che abbiamo davanti. Pensiamo che l'idea che un bambino possa essere allevato e cresciuto all'interno di una coppia omosessuale, maschile o femminile è quantomeno un'idea che lede il diritto naturale, atavico, fondamentale, storico che il bambino ha di avere un papà ed una mamma. Il fatto poi che le unioni civili vengano omologate al matrimonio di fatto rende possibile sia la stepchild adoption che altre forme di adozione ed è per questo che noi siamo categoricamente in opposizione al DDL Cirinna così come è, quindi non su alcuni passaggi. Qualcuno dice ma opponetevi alla stepchild e tutto il resto può andare avanti bene. Mi perdoni l'espressione franca, un corno potrà andare avanti bene perché nella misura in cui l'unione civile viene omologata al matrimonio verranno dati all'unione civile tutti i diritti che sono propri e specifici del matrimonio, ivi compreso l'adozione dei bambini. Questo perché altrimenti si discriminerebbe. Esattamente. Lei provi a pensare quante volte la giurisprudenza cosiddetta creativa è riuscita a smontare delle leggi rigorose e chiare che il Parlamento aveva fatto. Se noi formuliamo una legge che già di per sé stesso è abbastanza generica ed ambigua, ci vorranno forse 48 ore e poi si sveglierà il giudice monocratico di un qualche paesello d'Italia dicendo ma ragazzi se l'unione civile ha tutte le caratteristiche del matrimonio come si può discriminarla negando loro la possibilità di avere un figlio e si aprirà la strada all'utero in affitto e all'adozione dei bambini. Ecco, allora ci sarà questo Family Day il 30 gennaio? Guardi, il Family Day ci sarà senz'altro. Il problema della data è un problema di tipo contingente nel quale dobbiamo valutare tanti elementi. L'elemento è il dibattito del disegno di legge in Senato, un altro elemento è ovviamente la nostra organizzazione interna perché vogliamo portare in piazza di più gente di quanto non ne abbiamo portata il 20 giugno scorso. Quindi è un problema organizzativo anche di tempi? È un problema organizzativo di tempi organizzativi e poi naturalmente anche di tempi della politica. Cioè, a seconda di come verrà scandito il dibattito all'interno del Senato, noi già ci stiamo organizzando per muoverci e quindi ci muoveremo. Se non sarà il 30 gennaio sarà poco dopo. Ecco, ma in merito alla posizione dei Vescovi, allora non c'è una posizione ufficiale che vi appoggi? Anche se lei diceva in varie interviste che ci sono diversi Vescovi che sono con voi. Guardi, per quanto riguarda i singoli Vescovi ordinari diocesani, le potrei fare un elenco di decine e decine di Vescovi che ci hanno invitato, che hanno fatto dei convegni, hanno organizzato degli incontri, sono stati presenti agli incontri miei personali e di tanti altri amici, per cui sulla loro amicizia e condivisione non abbiamo nessun dubbio. Per quanto riguarda un atteggiamento generale, le dico sinceramente, noi abbiamo dato vita al Comitato Difendiamo i nostri figli perché abbiamo fatto nostre le parole del Santo Padre. Il suo famoso discorso, i laici devono essere dei protagonisti e non hanno bisogno del Vescovo pilota. È per questo che noi su questo terreno ci stiamo muovendo. Ma uno, contiamo assolutamente, è quasi un appello che lanciamo al Presidente della CEI, il Cardinale Bagnasco, che nella prolusione del prossimo Consiglio Permanente della CEI, che sarà il 25 gennaio, possa ricordarsi e dare una parola di sostegno alla nostra azione. Due, non abbiamo nessun dubbio che valori e principi sono assolutamente condivisi. Nonostante le posizioni a livello ufficiale siano di, diciamo, qualcuno dice di non creare singoli eventi, no? Sì, è vero. Però, ripeto, è una questione di strategia e di lettura della storia. Secondo me i singoli eventi non esauriscono il tema generale, però sono un grande aiuto contingente quando ci sono appunto delle condizioni storiche, temporanee, che devono essere affrontate con grande forza. Bene, grazie, professor Gandolfini. Anzi, grazie a voi e buon lavoro. Grazie, grazie altrettanto. E adesso cambiamo argomento, torniamo in realtà a parlare di misericordia, perché ci spostiamo all'interno della Basilica di San Zeno a Verona, dove accanto al Battistero è stato predisposto un particolare percorso legato all'anno della misericordia. a servizio di Roberto Zoppi. Quattro pannelli con altrettante sollecitazioni alla riflessione sulla misericordia, così come l'hanno vissuta quattro figure della storia della salvezza, attraverso episodi biblici riproposti più e più volte nelle rappresentazioni figurative dell'arte sacra. È questa la proposta per l'anno santo della misericordia pensata dal Consiglio Pastorale Parrucchiale e dalla Batem, un signor Ballarini, custode della Basilica di San Zeno a Verona. Il Consiglio Pastorale ha individuato nel segno del percorso, dell'itinerario, di una via, l'aspetto quindi dinamico dell'anno della misericordia. Allora l'abbiamo chiamata via della misericordia, grazie alla disponibilità di un artista che vive a Roma, Liliana Consoli, che attraverso quattro formelle che ricalcano le formelle di bronzo di questo portale celeberrimo della Basilica di San Zeno ripercorrono questa modalità. Sono quattro tappe bibliche che ci aiutano a scoprire e a meditare la misericordia infinita del Signore. I primi segni in questi giorni sono di un grande interesse, da una curiosità iniziale a un pensuoso cammino, una riflessione, una lettura attenta. Difficoltà e stimoli per riuscire a dare la giusta collocazione ma anche il giusto risalto a opere come queste? Lo stimolo è stato veramente interessante perché ci rifacciamo le parole di Papa Francesco e quindi la via della misericordia, la porta è diventata la via della misericordia qui a San Zeno. Qui cosa abbiamo pensato? Intanto è una strada. Questa serie di cilindri collegati da questa fune che mette insieme tutto perché è una strada e è anche la strada della misericordia. Allora l'oggetto, come voi potete vedere, penetra, spacca il cilindro che è una figura geometrica perfetta. Con la forza spacca il cilindro e l'oggetto stesso poi è praticamente tenuto retto da quattro punte, da quattro elementi e intorno all'oggetto non c'è nulla. Le formelle che rappresentano il cuore del percorso che il pellegrino è chiamato a compiere verso il luogo simbolo della riconciliazione con Dio sono state pensate e realizzate in funzione di un luogo, la Basilica di San Zeno appunto, da sempre che ha nei suoi affreschi una delle rappresentazioni più classiche della cosiddetta Bibbia dei poveri, strumento di conoscenza della vita di Gesù e della parola di Dio. È stata un'esperienza dettata dall'intuizione da parte del nostro abbate Don Gianni che stimolandoci in un momento di riflessione come riuscire a coniugare l'arte nella quale tutta la bellezza di questa chiesa è immersa e quindi la riflessione si è posta su questo percorso dove il pellegrino entrando assume tutta una spiritualità viene pervaso da un momento di riflessione che fa vivere in pieno la bellezza di questo messaggio. Abbiamo voluto in una maniera senza grosse pretese però con grande convinzione arricchire questo patrimonio attraverso queste formelle che ripeto sono state per noi un dono un dono non cercato ma un dono che siamo certi o almeno lo auguriamo a tutti possa essere di aiuto a prendere sul serio questo anno di grazia, questo anno di misericordia che Papa Francesco non si stanca di presentare facendo appello al cuore di ogni persona di ogni religione, di ogni cultura. In chiusura abbiamo un argomento di cui si sta parlando tanto in questi giorni sono le violenze subite dalle donne tedesche la notte dell'ultimo dell'anno il 31 dicembre in diverse città tedesche perché le denunce stanno arrivando in questi giorni sono veramente molto sostanziose e sono numericamente molto elevate ne parliamo con Fulvio Scaglione vice direttore di Famiglia Cristiana pronto? Buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti Il ministro della giustizia tedesco dice che insomma quegli attacchi devono essere stati organizzati viste proprio le dimensioni la diffusione del fenomeno cosa possiamo dire? Che lettura possiamo dare? Ma in effetti è difficile dare una lettura univoca come dire molto determinata di questo episodio perché se le aggressioni fossero veramente state organizzate se dietro queste aggressioni ci fosse una mente e non come si è detto semplicemente l'incapacità di un gruppo di cittadini stranieri, immigrati di vivere il Capodanno secondo le nostre regole le nostre abitudini beh allora qui si andrebbe non dico nel terrorismo ma in qualcosa che certamente col terrorismo confina e allora la questione assumerebbe tutta un'altra evidentemente dimensione e gravità ecco certo che fa pensare la dimensione del fenomeno questo stesso modo di agire in punti diversi insomma con i social network anche implicati ma sì i social network non è la prima volta infatti come questi rischiano poi anche di come dire di complicare le cose perché per esempio arriva sempre dalla Germania la notizia la smentita del fatto che in una discoteca di un'altra città di Bielefeld dove si erano ritrovati centinaia di di cittadini stranieri o comunque di origine straniera ecco è stata smentita dalla polizia la notizia che invece sui social network circolava abbondantemente che anche lì fosse successa una cosa simile quindi ripeto bisogna un po' lasciare purtroppo che la polvere su questi episodi si depositi per cercare di capirne meglio i contorni ovviamente lasciare depositare la polvere è molto difficile nella nostra società dei media e delle notizie 24 ore su 24 ecco certo che ci troviamo di fronte a culture in cui la condizione della donna è vissuta in modo molto diverso ecco questo è negabile sì però è vero ma bisogna anche fare una riflessione non è che a Colonia tutti i giorni o tutte le settimane o tutti i mesi succedessero prima episodi di questo genere eppure Colonia è sempre Colonia le donne tedesche sono sempre donne tedesche e gli immigrati stranieri magari di origine magrebina sono sempre quelli quindi è un episodio assolutamente particolare isolato e come tale va preso perché è vero che c'è questa differenza culturale ma è anche vero che questa differenza culturale viene normalmente affrontata e superata tutti i giorni dell'anno non solo a Colonia ma anche a Milano in tutte le città dove c'è una presenza multiculturale multietnica significativa allora certamente il rischio di scivolare nel razzismo è molto presente diciamo può essere molto facile nello stesso tempo però penso che sia giusto anche tenere alta l'attenzione sulla possibilità che fatti simili si possano ripetere sicuramente bisogna tenere alta l'attenzione io credo che delle due luna se questo episodio ha avuto una mente se questo episodio ha avuto una mente un'organizzazione uno o più organizzatori ripeto si va verso profili di criminalità organizzata confinanti col terrorismo che ovviamente configurano un ben altro e più grave problema se siamo invece dentro una questione di problemi di rapporto tra comunità di immigrati folte in città diciamo occidentali europee allora qua si rientra in tutta una serie di tematiche che sono legate all'immigrazione di massa che stiamo vivendo negli ultimi anni il problema di questa immigrazione non è la quantità ma la velocità con cui queste persone arrivano e quindi con il tempo sempre minore quasi irrilevanti ormai che si ha per poterle organizzare e per poterle integrare certamente questo problema questo tema che è discusso anche qui spesso con molta retorica va affrontato e vanno presi dei provvedimenti purtroppo l'Europa è inutile sottolinearlo per la millesima volta però non si deve pur fare è totalmente impotente è impotente all'origine nel senso che non riesce a fare nulla di costruttivo per i porti per i paesi da cui questa immigrazione parte pensiamo alla Siria pensiamo alla Libia ne ha parlato il Papa anche oggi sì questo è veramente sotto gli occhi di tutti e in più l'Europa è impotente anche alla fine di questa catena perché non riesce più a fare nulla di coordinato nulla che sembra un piano organizzato proprio qui in Europa cioè laddove questi migranti poi arrivano e le divisioni che abbiamo visto nell'ultima settimana chi rialza le frontiere chi mette controlli chi toglie sono sotto gli occhi di tutti sì esatto tutti ognuno fa per sé e quindi nessuno fa una cosa positiva grazie Fulvio Scaglione grazie a voi buona giornata grazie buon lavoro in chiusura vi ricordo sottolineiamo una rettifica relativa a un servizio andato in onda venerdì scorso dal titolo attenzione ai lupi sulla presenza di lupi in Lessinia su segnalazione della direzione del parco regionale della Lessinia scusandoci precisiamo che non esiste un progetto di reintroduzione del lupo nella Lessinia veronese tanto meno condiviso con la regione Veneto ed è tutto per oggi grazie per essere stati con noi e arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti